Allora, ciao a tutti! In questa puntata, in questo specifico podcast legato al mondo di Windows 11, dobbiamo parlare necessariamente di AMD. Recentemente ho fatto un video in cui parlavo della differenza tra AMD e Intel per l'arrivo, per la scelta in questo specifico momento per chi volesse andare sul mondo gaming. Ma, ripeto, di questo momento a novembre arriveranno i nuovi processori, quindi tutto questo cambierà ancora una volta. Ma per chi volesse fare questa tipologia di scelta, ho pubblicato questo video e ricordo recentemente, lo trovate in descrizione questo video, ho parlato anche del problema delle prestazioni del gaming per quanto riguarda alcune problematiche legate a una scelta del WBS. Ma, in questa specifica puntata parliamo di un problema legato non ad AMD ma a Windows 11, la colpa, se vogliamo trovarla, è legata a Windows 11 e ne parliamo tra un secondo. Prima di tutto, vi ricordo, come sempre, che se volete commentare questo video vi dovete iscrivervi sul mio canale, dopodiché il filtro antispam non creerà più problemi a voi e mi potrete scrivere appena sotto in modo tale che possiamo crearci un dialogo, mi fate le domande e cercherò di darvi delle risposte. Ma torniamo al problema di cui abbiamo appunto aperto questo tipo di notizia perché il problema di AMD in questo momento e secondo me sarà un problema anche di Intel nel prossimo futuro con i processori di dodicesima generazione quindi andateci piano nel cambio totale, globale perché il problema è della cash di terzo livello che ha dei problemi di latenza, ok? Questo cosa succede? Con la cash di terzo livello che può aumentare fino a tre volte la richiesta rispetto al normale ovviamente tutto questo ha un impatto non positivo su quelle che sono le prestazioni al momento ne abbiamo del 3-5% nelle applicazioni comunque già conosciute, studiate e verificate ma può arrivare anche al 10-15% in molti titoli che vengono utilizzati più comunemente all'interno del mondo degli esport quindi comunque giochi molto usati e che hanno questo tipo di problema questo naturalmente è una delle problematiche dei processori AMD l'altro naturalmente è il fatto che AMD attualmente per quanto comunque voi possiate avere dopo la generazione 2000 Zen Plus quindi dopo questa generazione i processori sono supportati ma una delle caratteristiche fondamentali dell'ottimizzazione della scelta di chi magari utilizza AMD per il lato professionale o di gioco o di uso comune di questo tipo di realtà per lavorare, navigare, cose del genere è appunto la scelta del processore migliore quindi che ne so si sganciano i processori si agganciano tutti questi tipi di sistemi e nel momento in cui ci sono questi 8 processori che quindi vanno agganciati e sganciati a tutto questo tipo di realtà applicazioni che naturalmente usano o non usano thread piuttosto che le CPU dirette tutto questo insomma ha ancora dei caos e quindi vanno ad usarsi un po' tutti si crea dell'overflow oppure vengono usati non in modo ottimale tutto questo insomma va a generare dei problemi fatta tutto questo pippone in cui non sono per scelta entrato esageratamente nel dettaglio però sappiate che AMD è al lavoro su una patch per Windows 11 che vi porta ad una soluzione naturalmente non è abissale il problema non è che se avete AMD allora automaticamente non fate più nulla o non aggiornate Windows 11 o cosa naturalmente è un sistema operativo neonato è un sistema operativo che ha bisogno di tempo per rodare devo dire se proprio mi è concesso fare un commento su questo tipo di scelta trovo abbastanza idiota il fatto che Microsoft che ha avuto tutto il tempo del mondo per testare tra l'altro con una ricerca cioè con una scelta con un ventaglio di possibilità assolutamente ristretto di processori che notoriamente sono Intel o AMD quindi aveva proprio pochissime possibilità di scelta non se la sia studiata un po' meglio questo tipo di soluzione quindi non comprendo come mai AMD sia così tanto scartata e comunque problematiche legate al fatto che non hanno proprio manco lontanamente pensato di fare alcuni test sotto questo profilo visto che non è che colpisce in parte cioè colpisce proprio a cannone tutti con questo tipo di scelta quindi davvero una cosa anomala secondo me vabbè comunque detto ciò voi siete avvisati naturalmente attendete magari per fare il passaggio a Windows 11 oppure se siete passati vabbè qualche problemino ce lo potreste avere chiudo naturalmente dicendovi che per tutto quanto riguarda le possibilità passare non passare tutte le problematiche possibili e immaginabili io vi dico vi ho spiegato le guide che trovate in descrizione quindi non dovreste avere problemi nel fare il passaggio e basta io vi ringrazio al prossimo video e ciao